Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Dark Food. Nell'ultima puntata finalmente le cose hanno iniziato a farsi interessanti perché abbiamo trovato tutti i luoghi che avevo interesse nel trovare in questa nuova zona molto ostica come avete potuto vedere e finalmente in questo episodio potremo iniziare a parlare più seriamente di lore, più di quanto non abbiamo fatto fino ad ora. Soprattutto di un dettaglio importantissimo della lore che è quello che riguarda l'origine di molti dei personaggi che abbiamo visto finora e che fa anche un po' da chiave di volta per capire quello che diavolo sta succedendo qua. Perlomeno per me è stato così, ecco perché la ritengo una cosa così importante. Quando giocavo le prime volte a Dark Food e non ci capivo niente ed è normale, vi ripeto, ne abbiamo già parlato episodi indietro del quanto sia normale giocare un videogioco pregno di narrativa ambientale e non capirci niente alla prima run, alla prima volta che lo si gioca ma a volte neanche alla seconda e a volte neanche alla terza perché dipende da tanti fattori quando si inizia a capire. Però questa cosa è importante, secondo me, proprio perché come vi ho già detto fin troppe persone pensano di non essere in grado di capire da soli la storia, la lore, la trama dei videogiochi pregni di narrativa ambientale giochi come per esempio un Dark Souls che abbiamo già citato perché è un esempio perfetto di un altro videogioco pieno zeppo di narrativa ambientale o come nel nostro caso Darkwood. Insomma, io vi porto me stesso come esempio di persona che questo già quando giocavo a Darkwood già la sapevo questa cosa perché l'avevo imparata in passato con tanti altri titoli uno tra i quali Dark Souls. Mi approccio a questo videogioco, inizio a giocarlo, arrivo praticamente alla fine del gioco e ancora non ci ho capito niente finisco il gioco e ancora non ci ho capito niente questa cosa sarà capitata anche a voi un sacco di volte ed è normalissima. Come vi dicevo già appunto qualche episodio indietro a volte basta il primo passo per iniziare a ingranare nel decifrare appunto la storia e tutto il background della vicenda che stiamo vivendo basta questo primo passo a sbloccare tutto quello è il primo tassello del puzzle che da lì fai ah, vedi se questo va qui allora questo va qui allora questo va qui allora se questi vanno qui questo va qui questo va qui questo va qui e in men che non si dica pam! hai completato il puzzle hai messo insieme tutti i pezzi e adesso puoi guardare a un'immagine che ha un senso e tutto guadagna un senso è così ragazzi imparare a capire la lore dei videogiochi che fanno largo uso di narrativa ambientale come un Dark Souls o come un Darkwood non cambia quasi nulla è esattamente la stessa cosa dell'imparare a fare un puzzle ma non il puzzle dei videogiochi il puzzle quello vecchio che si faceva una volta che oggi ormai sono caduti quasi in disuso sono rimasti pochissimi appassionati quelli proprio con i pezzettini con le immagini ritagliate in tanti pezzettini mescolate tutti insieme che si deve prendere e riuscire a incastrare pezzettino dopo pezzettino per completare l'immagine è la stessa identica cosa all'inizio tu quando inizi a giocare a Darkwood o a Dark Souls o a quello che sia tu hai tutti questi pezzi tutti mescolati all'interno della scatola li guardi e fai oh mio dio non ci capisco niente e non basta prendere pezzettino per pezzettino e guardarlo quando hai finito di guardarli tutti sei lì e fai io non ci ho capito niente e quello è la stessa cosa che prendere un Darkwood o un Dark Souls e giocarselo tutto dall'inizio alla fine la prima volta è come prendere ogni singolo pezzettino del puzzle e guardarlo una volta e metterlo da parte e quando li hai guardati tutti ovvero hai finito il gioco fai ok io non ci ho capito niente non è che sei stupido non è che non sei in grado è normale che sia così è che nessuno tutti sono troppo impegnati a fare i figli e dire vedi quanto sono figo io che la lore la capisco ascolta me perché se non vieni a guardare i miei video tu la lore non la capirai mai da solo quindi devi venire vedere i miei video non è così non è così tutti quanti siete in grado di capire la lore tutti quanti nessuno di voi è stupido e nessuno di voi ha qualche non lo so cervello strano che gli impedisce di capire la lore dovete solo imparare come si fa e non c'è nessuno disposto ad insegnarvelo perché sono tutti troppo impegnati a fare i fighi e ad attirare visualizzazioni nel loro canale a me che non me ne frega un cazzo né di fare il figo né di attirare visualizzazioni nel mio canale io invece ve lo voglio insegnare perché secondo me è una delle cose delle soddisfazioni più belle che si hanno in questo tipo di videogiochi quando si riesce a mettere insieme tutti i pezzi e a capire che diavolo sta succedendo e lì fai ahhh guarda questa è così ahhh allora questa è così e ti diverti tantissimo cioè se non fai questa roba se giochi a Dark Souls ok finisci il gioco ti potenzi la spada ti fai l'armatura nuova sali di livello ti tiri su le skill batti boss sempre più difficili è divertentissimo ma se giochi quel gioco e da solo per i fatti tuoi non arrivi a comprendere io non ti dico il 100% della lore o della storia perché è veramente complicato e richiede un sacco di tempo però buona parte o perlomeno le parti più importanti della lore ti sei perso metà del divertimento perché quello è metà gioco tu hai metà gioco che è proprio tecnico di gameplay imparare a schivare imparare il moveset dell'arma imparare quali statistiche meglio tirar su quando capite quali oggetti utilizzare contro quel determinato boss quello è metà del gameplay l'altra metà del gameplay è tutto nella tua testa è un'indagine un'investigazione è proprio ti metti lì come un investigatore privato che si ritrova in uno scuro mistero a cercare di capire chi era quell'individuo chi era quell'altro che cosa ha fatto perché è successa quella cosa ma allora questo luogo è quel luogo lì è favoloso ragazzi è favoloso e vi giuro è metà del divertimento e questo è un motivo per cui mi rode il culo quando ho amici perché ho amici che arrivano e mi fanno quando parliamo di ste cose mi fanno eh no ma io proprio non sono non sono in grado di capire ste robe a me se non me le spiega qualcuno non le capisco non è vero non è vero è semplicemente perché non sai come si fa non sei capace a farlo nessuno ti ha mai insegnato o tu non ti sei mai messo lì di impegno a farlo perché neanche a me nessuno l'ha mai insegnato però io sono duro come un caprone quando mi impunto su una cosa finché non ho imparato a farla non sono contento quindi mi ci impunto nelle cose e imparo ed è così che spesso imparo a fare tante cose da solo senza che mi insegni nessuno ci vuole solo molto più tempo anche voi potete imparare da soli come ho fatto io essere autodidatti nelle cose è fattibilissimo è semplicemente molto più difficile è molto più faticoso e richiede molto più tempo ma si può fare ma comunque io come vi stavo dicendo questi sono gli esempi che vi posso fare per guidarvi nella giusta direzione per imparare a decifrare la lore in questi videogiochi che fanno largo uso di narrativa ambientale Darkwood ne è un esempio il punto focale secondo me su cui ci si deve concentrare perlomeno che io uso molto perché poi magari ognuno ha il suo stile ognuno ha il suo metodo per decifrare la lore in questi videogiochi io vi posso dire il mio perché io uso il mio io sono uno di quelli che non va a guardare i video di quello di quello di quell'altro quando deve scoprire la lore di un gioco ma ci gioca e ci rigioca e ci rigioca e ci rigioca fino a quando non la capisco da solo e quindi ho sviluppato i miei metodi di conseguenza vi posso insegnare il mio metodo non quello di qualche di un altro che non so quale sia il mio metodo è una cosa che ho trovato estremamente utile è agganciarsi ad un dettaglio esattamente come in un puzzle l'esempio del puzzle calza a pennello agganciarsi ad un dettaglio concentrarsi su quello e da lì piano piano espandersi esempio del puzzle quando tu hai tutti quei pezzi mescolati nella scatola e non sai minimamente da che parte farti ed è tutto un gran casino e dici oh mio dio mi viene il mal di testa solo a guardare tutti questi pezzettini cosa si fa? si cerca un angolo si cerca un angolo perché da lì più il lan si va ok? è un buon punto di partenza si capisce che questo è un angolo quest'angolo quale angolo è? quello in basso a destra in basso a sinistra in alto a sinistra o in alto a destra si capisce perché è facile sono quattro opzioni quindi nei videogiochi a volte non si traduce in maniera così semplice però il succo è lo stesso si cerca un dettaglio della storia un particolare che possa essere un evento un luogo un pezzo di equipaggiamento un personaggio specifico che magari ci piace particolarmente o che sembra essere come dire centrale nella storia ma non troppo lo si prende in considerazione e si inizia a collegare i pezzi da lì ok? lui chi è? lui da dove viene? lui che cosa fa? lui che cosa vuole? perché? perché fa questo? perché succede questo? e questo che cosa ti porta? ti porta quest'altro personaggio ah vedi questo personaggio è collegato a lui e questo nuovo personaggio chi è? da dove viene? che cosa fa? cosa vuole? capite? pezzettino per pezzettino inizi a creare un filo che collega sempre più punti e più punti riesci a collegare l'uno all'altro più semplice diventa all'inizio è difficilissimo ogni pezzettino ti rende il resto del lavoro più facile è ancora più facile è ancora più facile è ancora più facile fino a che arrivi alla fine che il quadro completo è tutto più o meno collegato con qualche buco qua e là che con il tempo se avrai voglia ed edizione riuscirai a completare io chiamo questo elemento che mi permette di iniziare la mia scoperta nella loro la chiave di volta perché funziona proprio come una chiave di volta in un arco per chi non lo sapesse la chiave di volta è quel mattone che sta al centro di un arco di un'arcata che regge tutta l'arcata se tu togli quel mattone crolla tutto si fa proprio un'arcata tenendo di conto della chiave di volta ecco io questa chiave di volta per mia per mio gusto personale non significa che voi dobbiate fare così ho imparato a beccarla a caso cioè nel senso all'inizio mi forzavo cioè dicevo questo personaggio mi interessa proviamo con lui partiamo da lui iniziavo a costruire da lui alcune volte questa cosa funzionava bene altre non mi portava grandi risultati quindi dovevo cambiare allora proviamo con quest'altro personaggio oppure proviamo con questo luogo oppure proviamo con questo evento capite o con questo boss tipo fare così è un po' un azzardo perché certe volte becchi la cosa giusta e da lì parte tutta la concatenazione a modo di effetto domino che ti porta alla verità alla risoluzione di questo puzzle altre volte invece è un buco nell'acqua e ti trovi incastrato perché dici ok sì questo personaggio è questo ma boh ma che vuole boh ma chi è boh da dove viene boh ma capite e da lì non si va da punte parti perché perché non hai preso un pezzo del puzzle che fa angolo e questa è una cosa buffa uno dice come faccio a sapere qual è il pezzo del puzzle che fa angolo nella lore di un videogioco è difficilissimo e purtroppo ogni videogioco cambia quindi non si riesce bene a capirlo perlomeno io non ho trovato un buon metodo per capirlo e ho sviluppato l'evoluzione mia personale questo metodo in cui mi tengo aperto a tutto ok cioè mi tengo pronto a percepire quei vari segnali quei vari indizi che ti fanno fare aspetta 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 però non mi concentro su nulla nello specifico fino a quando non c'è qualcosa che davvero mi fa il click mi accende quella lampadina mi fa venire quell'idea che sembra grossa capite che dici proprio oh potrebbe essere così qui la situazione quando ho quell'illuminazione spesso mi porta molto lontano perché l'indizio di base la nozione no quell'aiutino che ho captato è grosso mi fa fare oh allora quello probabilmente mi porta da tanti altri posti e quei tanti altri posti mi potranno portare in tanti altri posti a loro volta e lì si crea l'effetto domino perché vi ho fatto tutto questo discorso non solo perché ho veramente sinceramente piacere nell'insegnarvi a fare questa roba perché è divertentissima e vorrei che tutti poteste sperimentare e provare nella vostra pelle il piacere del farlo ma perché per me quello che vi sto per far vedere in questo episodio è stata la chiave di volta ovvero l'indizio il pezzettino che fa angolo del puzzle di Darkwood per iniziare a capire tutto io fino a che non ho messo insieme questi pezzi non ci stavo capendo una ceppa o meglio pochissimo veramente pochissimo avevo capito qualcosa in qua e là qualche indizio ma non stavo riuscendo davvero a collegare le cose non riuscivo a partire da una parte e mettere insieme tutti i pezzi fino ad avere il quadro completo questi tre luoghi la casa del cacciatore le rovine del granaio e questo edificio distrutto questi tre insieme sono stati la svolta quando li ho esplorati lì mi si è acceso una lampadina con attenzione ovviamente mi si è acceso una lampadina e ho detto oh cazzo stai a vedere che e pam era proprio così questo ovviamente ripeto non succede la prima volta che si gioca il gioco perché anche se magari è ovvio io adesso vi farò vedere sta roba e voi farete mamma mia ma è ovvio come ho fatto a non pensarci la prima volta e come ha fatto il cencio a non pensarci la prima volta perché la prima volta che si gioca e anche questo ve l'ho già spiegato ma lo ripeto perché è fondamentale che lo impariate perché molti non si rendono conto di questa cosa la prima volta che si gioca uno di questi giochi si è distratti si ha troppe cose per la testa a cui pensare sta imparando il gameplay sta imparando quelle cose devi tenere a mente quello e ti devi ricordare quell'altro e ti devi ricordare hai tantissime cose che ti frullano per la testa hai tutti questi pezzi del puzzle tutti sparpagliati davanti a te che si muovono che si spostano e anche se ce li hai tutti davanti ai tuoi occhi è impossibile tenerne traccia a meno che non sei un genio tipo non lo so The Rain Man che casca un contenitore di stuzzicadenti per terra lui abbassa lo sguardo un secondo e ha contato quanti sono se hai una capacità di calcolo mentale così ben per te probabilmente riesci a farlo ma è una cosa fuori dalla norma questa non è la normalità ok? di norma l'essere umano non riesce a fare queste cose così potenti mettiamola in questo campo quindi la prima volta che giochi tu hai tutto sto casino in testa tutte queste cose che stai cercando di capire tutti questi dettagli che ti si mescolano insieme e non ci capisci niente anche se l'ovvio è dritto davanti ai tuoi occhi tu proprio gli passi sopra e non lo vedi perché sopra quell'ovvio ci vedi quell'altra cosa a cui stai pensando quell'altra che ti preoccupa quella domanda che ti assilla capisci? e quindi non te ne rendi conto alla seconda alla terza alla quarta volta questo ripeto ognuno è diverso che sei più tranquillo hai già imparato a giocare conosci il gameplay quindi tutto quello che riguarda la tecnica è fuori dalla tua testa ti viene istintivo e spontaneo hai già cominciato a capire qualcosina e qualcos'altro qualche domanda gli hai già dato una risposta così a caso lì hai la mente più sgombra e improvvisamente l'ovvio si para davanti ai tuoi occhi e boom si accendono le luci e inizia lo spettacolo perché lì davvero si accendono le luci e inizia lo spettacolo questa è una cosa purtroppo che si vede poco in una serie come questa perché io ovviamente il gioco l'ho già giocato e questa questa epifania per me si è già verificata quindi io posso solo guidarvi nel dirvi come è accaduto per me questi tre luoghi ragazzi questi tre luoghi questo edificio abbandonato la casa del cacciatore le rovine del granaio che sono i tre luoghi che andremo a visitare adesso li faremo a ritroso in questa giornata visiteremo prima l'edificio abbandonato poi ritorneremo alla casa del cacciatore e infine andremo alle rovine del granaio dove qui ho un vuoto di memoria nel senso so bene cosa c'è nelle rovine del granaio e che cosa comporterà andare nelle rovine del granaio quello che non ricordo è se avremo la possibilità di fare un'azione estemporanea al nostro personaggio cioè se avremo modo di uccidere un npc qua nelle rovine del granaio senza bloccare un'intera questline perché dico questo? perché so che uccidendo questo npc si bloccherà un'intera questline cosa che non deve accadere in questa serie di video per ovvi motivi perché dobbiamo mandare avanti la sua questline quindi il mio piano è lasciar finire la questline e solo dopo che è finita la questline uccidere questo personaggio perché questo ci permetterà di scoprire più cose in cosa comporta questo vuoto di memoria questo mio dubbio non ricordo se una volta finita la questline questo personaggio scompare o rimane perché mi pare che scompaia ma non sono sicuro perché io queste cose come vi dicevo le ho fatte tutte nell'arco di vari wall true di vari let's play di varie run di varie giocate quindi non ricordo bene se avrò modo di farlo tutto in una giocata vedremo in tal caso questo personaggio scompaia al termine della sua questline come mi pare di ricordare non è un problema inizieremo una nuova partita in un altro salvataggio io faccio tutto off camera voi non vedrete niente tutta la parte noiosa la schippo e andrò ad uccidere questo personaggio perché tanto non importa quando lo uccido tanto se blocco la sua questline non ce ne frega niente noi qui nella nostra partita l'avremo già finita la questline l'avrete già visto tutto quello che c'è da vedere riguardo a questo PG e a quel punto potrò farvi vedere cosa succede quando lo si uccide o meglio cosa droppa quando lo si uccide che questa è una cosa molto 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 interessante detto questo vi ho già rubato troppo tempo però queste cose sono importanti io qui a terra ho già buttato le fedi nuziali le due fedi nuziali di argento di cui ne abbiamo già parlato e ne riparleremo e dovremmo fare un fugone al nascondiglio della foresta silente eh sì ci tocca perché abbiamo le armi distrutte soprattutto la nostra la nostra fida pala della muerte è completamente distrutta quindi dobbiamo andare a ripararla assolutamente perché sicuro troveremo nemici in quelle zone e se non posso affrontarli è un problema abbiamo bisogno di calma per fare le nostre cose se non posso farlo non riusciremo mai ad affrontare questi discorsi in santa pace porca miseria ho finito la stamina di nuovo è tremenda questa roba è un'arma a doppio taglio quando si cerca di fare veloce in realtà si finisce la stamina e si fa più lenti di quando si vuole andare normali è terribile adesso dobbiamo fare qui una potentissima chicane intorno ai funghi velenosi mannaggia dove cazzo sto andando qui abbiamo lupi morti quindi perfetto di qua ci siamo passati facciamoli prendere fiato a questo povero Cristo per farvi un esempio mentre che torniamo verso il rifugio per farvi un esempio di quanto a volte l'ovvio non lo si nota nella prima run voi pensate che io alla mia prima run di Darkfoot dato visto i collegamenti con lo stalker di Tarkovsky ho detto ma non è che questi magari hanno fatto una roba che si collega sì a stalker ma non proprio allo stalker film di Tarkovsky o a picnic sul ciglio della strada libro ma l'hanno collegato un po' allo stalker videogioco quindi ambientato a Chernobyl e al disastro nucleare di Chernobyl avevo notato da qualche indizietto che si parlava di un'epoca antecedente alla nostra anzi precedente alla nostra fammi bere qua ma non avevo mica notato i millemila riviste che dicevano degli anni 80 eppure sarà ovvio le riviste proprio le raccoglie e ti dice oh è una rivista di quest'anno con scritto grossissimo 1987 e io dicevo ma cioè proprio da quanto ero preso da altri ragionamenti non l'avevo minimamente notata questa roba e quindi pensavo stavo a dire ma stai a vedere che siamo negli anni 90 nei primi anni 90 subito dopo il disastro di Chernobyl e tutto questo casino è dovuto dalle radiazioni o qualcosa del genere cioè rendetevi conto proprio rendetevi conto non ci avevo proprio capito niente perché questo non è possibile qui siamo nel 1987 Chernobyl non è ancora accaduto quindi non può essere quello io questo lo rimetto via questo dimmi che stacca te prego ma figuriamoci dio santo la gestione dell'inventario in questo gioco è veramente veramente boh mi serve un'altra batteria non ce l'ho un'altra batteria io ne ho una sola mi puoi dire ne ho una sola prossima notte compriamo un'altra batteria porca vacca sto cercando pure qui di far veloce no 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 non ho altri cose va bene arrivederci ricarichiamo subito la torcia con una batteria nuova magari mettiamoci la pala al posto di quella roba lì mi servirebbe anche la pistola portata di mano non si sa mai non credo che troveremo chissà quali nemici e o chomper però però non si sa mai altri funghi bianchi insomma capite l'entità delle cantonate che si possono prendere alla prima run è normale è normale a volte alla prima run c'hai quell'idea così che ti balena ed è pure quella giusta che a casissimo ti viene proprio l'idea giusta quelle sono botte di culo proprio quelle sono colpi di fortuna tremendi e succedono piuttosto raramente però a volte succedono a volte si ha la fortuna di notare dei particolari che in realtà svelano dei segreti nella storia di lore che mamma mia a me è successo per esempio nella blind run quando stavo giocando qui sul canale a Sekiro lì non dico cosa per non fare spoiler magari a chi ha visto la blind run ma non ha ancora giocato intensivamente il gioco no piccolo no ebbi proprio un colpo di culo se vogliamo definirlo e notai un particolare molto particolare che però il gioco voleva che noi notassimo sia chiaro l'ho notato perché il gioco proprio te lo diceva ehi guarda nota questa cosa e io l'ho notata e da lì ho capito subito un po' di cose capite era un parolone perché lì ancora stavo facendo solo teorie essendo la mia prima run la mia blind run però le teorie poi ho scoperto giocando rigiocando Sekiro ho scoperto che erano giuste ci avevo preso in pieno alla prima run ma quello ragazzi è un colpo di culo cioè una botta di fortuna dove stiamo? sono spariti i pezzi del corpo siamo in un sentiero quindi siamo in questo sentiero qui perfetto eccolo qua eccolo qua questo edificio eccolo qua guardate che roba completamente riempito di questa roba bianca in forno qui addirittura c'è la sagoma di una persona un tavolo da lavoro una segheria e l'affare tipo cantina che va di sotto perché questo edificio è importante questo edificio è importante perché se ci fate caso è la coppia esatta spiccicata del primo rifugio del dry middle del prato arido è la coppia identica di questo rifugio guardate anche l'iconcina nella mappa guardatelo bene se ci fate caso è l'unico rifugio ad avere l'alberello secco accanto che è anche qui alberello secco gli altri rifugi non hanno l'alberello vedete sono semplicemente delle casette sono la stessa icona questo ha un'icona diversa così come ce l'ha questo 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 così come ogni altro luogo del gioco unico di importanza principale ha un'icona diversa il nascondidio del prato arido ha la stessa identica icona di questo ma è come se fosse tipo in negativo è vuoto vedete non ha le pareti non ha la finestra è vuoto però ha il tetto è vuoto dentro e qui abbiamo la copia esatta di quel di quel rifugio addirittura con una persona dentro porella ma completamente infungato questo è uno degli indizi che voi dovete tenere a mente adesso magari direte ma e questo a me non mi spiega niente non mi è di nessun aiuto per capire ci sta ci sta anche per me all'inizio non lo fu questo è uno dei pezzettini del puzzle che fanno angolo ok di per sé non ha importanza ma fa angolo andiamo a cercarne un altro qua abbiamo un altro pezzettino che fa angolo io sto usando l'esempio del puzzle lì cartaceo come se fosse una roba di uso comune nel 2024 caputaso vecchio proprio spero che qualcuno di voi abbia fatto un po' di puzzle e quindi riesca a capire bene ah no questa è la casa dei genitori del coso spero che quanti più di voi abbiano fatto nella propria vita un po' di puzzle quindi capiscano un po' quest'esempio che sto usando perché sennò io sto usando un esempio che non può capire nessuno quindi è un esempio completamente inutile spero che non sia questo il caso eccoci qua questa era la casa del cacciatore sì eh sì no non si entra potrei sfondare la finestra ma fungo marcio fungo marcio questo è il secondo pezzettino del puzzle che fa angolo anche questo lo vedi di per sé non ti spiega granché ci può già dare qualche idea molto più dell'altra ma non spiega granché ci ha solo fatto capire che questo povero Cristo che è rimasto intrappolato qui nelle nelle radici lo vedete che proprio si sono infilzate guardate che roba nella coscia in entrambe le cosce nel ventre guardate là è proprio completamente trapassato dalle radici questo povero Cristo che è rimasto infilzato qui probabilmente era il cacciatore perché questa è la casa del cacciatore e senza ombra di dubbio quest'uomo era il promesso sposo della pretty lady perché aveva la stessa fede d'argento ok secondo pezzettino che fa angolo no non si può uscire da qui da qui si però secondo pezzettino che fa angolo andiamo al terzo pezzettino che fa angolo oh no un chomper oh no un altro chomper tantissimi cani qui è crollato tutto il capannone i funghi non li prendo nemmeno non ci servono forse posso entrare da un altro lato vediamo un po' da qui non si passa qui le mura sono rimaste su facciamo il giro va che roba una sbavata di di fungaccio bianco schifoso guarda qui e anche da qui non si va perché gli alberi hanno preso il sopravvento sono le 15 e 10 abbiamo ancora tempo buoni guarda quanti cani una mucca sbranata questa carne ci fa comodissimo non possiamo assolutamente non possiamo assolutamente combatterli tutti sono veramente troppi quindi dovremo utilizzare la carne per distrarli buono nazione da qui si entra no ah ma potremmo usare un grimaldello che ce l'ho me lo fai scegliere no l'ho poggiato ma non ce l'ho il grimaldello perché non perché non mi fa scegliere il grimaldello guarda che roba ok oh finally oddio oddio un cane oddio è incinta o cosa altri cani lassù guarda lì no eh questo tocca combatterlo nasce dalla carne quella per l'ex perché non ci serve un altro aio altri pezzi di carne no 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 buono dovresti morire col veleno a regola no vabbè adesso c'è morto per un pelo non ci muoio pure io per farlo morire col veleno aspetta lì che mi bendo un altro cane è incinta dei resti umani sembrano imbalzamati delle lucine nel forno non c'è nulla trofeo un trofeo con una testa umana esattamente come di norma si appende non lo so la testa del leone o del cervo o di che cosa sia chiave del nascondiglio del lupo anche anche gli animali imbalzamati di norma sono uno standard questa potremmo aprirla adesso perfetto abbiamo aperto una shortcut anche gli animali imbalzamati di norma sono un trofeo del cacciatore qui invece abbiamo esseri umani imbalzamati eccolo qui il nostro caro amico prima di parlare con lui quasi quasi guarda che schifo dei resti umani sembrano imbalzamati qui abbiamo una porta di legno eccola qua cadavere corpo semi mangiato di una donna deforme devo ritornare al mio rifugio prima che faccia buio qui ha visto e ha detto no devo ritornare al mio rifugio prima che faccia buio torneremo a parlare con te torneremo a parlare con te non abbiamo finito qua il tempo è tiranno purtroppo ce lo aspettavamo no che fine aveva fatto la pretty lady la bella signora guarda caso subito dopo che abbiamo dato la orca vacca subito dopo che abbiamo dato la chiave a wolfman è scomparsa qualcuno l'ha rapita lì avete visto il cadavere era stato ammanettato cioè aveva le mani legate ed è stato parzialmente mangiato questo è quello che sostanzialmente succede mandando avanti la quest di wolfman e dandogli la chiave lui fa questo se la prende e se la mangia è una cosa abbastanza terribile devo dire però ci serviva ci serviva per capire alcune cose tipo anche dove diavolo sono anche questa è una cosa che che mi serve credo di essere andato troppo a sud mi sa che mi converrà staccarmi un dito e buttarlo a terra qua per sì che sono le madonna è tardissimo facciamolo qual'era questo navigatore vai no ho sbagliato ah ma va ma siamo qui ok ora pesto sicuro qualche fungo oddio oddio è tardi è tardi ok questa è la casa schifo schifo fungosa e dai questo tasto ma perché adesso lo sbaglio sarà un'altra notte molto divertente per voi decisamente meno per me anche perché mi sa che a casa non ci arrivo forse sarà una notte molto breve puttana galera eccola eccola passiamo dalla finestra devo accendere il generatore ok e adesso mi imbosco mamma mia ma mai visto subito no ho lisciato da qui mi sa mi vedono per via della luce fuori c'è quell'altro angolino buio che è un po' meglio forse questo è un po' meglio cazzo sto cassettone eh voilà che questo mica è male come angolino buio sai c'ho ancora la carne che sicuramente non mi servirà durante la notte mettiamoci la pistola non si sa mai e la carne la metto qui ma metti caso oddio è passato un indigeno da lì ha chiuso la porta il nostro angolino buio funziona alla perfezione per ora no c'è un chomper no un cane un cane un cane tutto a posto tutto a posto i cani come avete potuto notare per ben due volte utilizzano il fiuto in questo gioco o meglio non lo utilizzano davvero è simulato ma i cani ti beccano anche al buio perché ti fiutano vanno con l'olfatto più che con la vista quindi ti puoi nascondere anche negli angolini bui i cani te beccano oh 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 me tengo una benda pronta io cos'è che pesta così forte non ho idea di che cosa si è entrato abbiamo uno spiraglino qui per vedere quando passa è qui eh è qui sta salendo su probabilmente qui oltre dietro al muro no era un chomper ok è inutile sprecare la pala aio odio quanti dobbiamo resistere un'ora un'ora non romper la porta te la apro la l'ho dovuta rompere ho un altro e siamo sopravvissuti un'altra notte qua un'altra notte commerciante sei fiero di me hai visto qua come andiamo tiè damme sta sta torcetta please e damme sta torcetta please e anche guarda guarda quanta reputazione che abbiamo e vorrei vorrei munizioni grazie e arrivederci porco giuda ci abbiamo il campanellino io quasi quasi chiamerei trilli ma andrò buttato l'ho lasciato di là mamma mia sono il peggiore ui c'è ragione della benza qua no l'ho lasciato nel vecchio rifugio quando sono andato lì a far spazio l'ho preso e l'ho lasciato lì mamma mia che testa che so sono proprio una testa allora niente e allora continuiamo così all'avventura alla come va quanta benzina abbiamo qui a voglia a voglia e abbiamo anche questa che io adesso prendo tanto è inutile che stia lì ci si butta la carnaccia tanto adesso non ci serve più perché abbiamo la shortcut sbloccata la butto tutta qui dentro giusto per tanto è inutile che stia lì e voglio andare diretto 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 dal nostro amico wolfman è una come diluvia perché no l'episodio non è concluso se non abbiamo concluso le nostre faccende forco giuda quanti siete allora noi qui siamo troppo alti ma in realtà va bene possiamo passare di qua su ok quel cionper è seminato ok Ah, è finita la benzina qui dentro Quindi non ci vediamo niente qua Vabbè, abbiamo comprato le lampadine apposta Allora, ritorniamo da sto schifo L'ha avvolta in un lenzuolo Gli ha legato le mani Vedete? E se l'è mangiata Praticamente per metà Ora, parliamo un attimo con lui Vediamo se ha da dire qualcosa riguardo Compagno! Il saluto sembra un ringhio rabbioso Il lupo balza rapidamente su di me Con il suo ventre gonfio E appoggia le zampe sulle mie spalle Mi lecca ostinatamente la faccia Che regalo che mi hai fatto? Noto delle macchie di sangue fresche sul suo pelo E avverto filamenti di saliva gocciolare sul mio cappotto Balza verso di me Come se volesse dirmi qualcosa all'orecchio Spingi via il lupo Non fare nulla Ora, questa è una scelta che Anche qui va a cambiare delle cose No, è lui che si lecca ostinatamente la faccia È il muso Si lecca il muso Come i cani quando hanno finito di mangiare Che tutti soddisfatti si leccano il muso, no? Che regalo che mi hai fatto Ci salta addosso Come se volesse dirci qualcosa all'orecchio Spingi via il lupo Non fare nulla Non facciamo nulla Il lupo mi strizza il braccio E comincia a leccarmi la faccia Una volta sul lato sinistro E una volta sul destro Compagno preda Il suo fiato puzza di marcio Che cosa farei senza di te? Non sei un inutile pezzo di carcassa Come sembri Grazie a te Mi sento realizzato Da notare un dettaglio molto interessante Il lupo mi strizza il braccio E comincia a leccarmi la faccia Una volta sul lato sinistro E una volta sul destro Esattamente come noi Esseri umani Facciamo Quando Bacciamo sulle guance Come saluto Un bacio Sulla guancia sinistra Un bacio Sulla guancia destra Ma lui non è un uomo E non è un cane È Entrambe le cose E quindi mescola le due cose Una leccata nella guancia destra Una leccata nella guancia sinistra Questi sono dettagli che Mua Proprio Mua Grazie a te Mi sento realizzato Attenzione Ricordatevi bene questa parola Lui si sente Realizzato Non soddisfatto Non sazio Realizzato Ok Ho riavuto la mia ragazza La mia dolce Piccola signora Difficile credere Che lo stesso sangue Scorra nelle vene Di quella stronza Che puzza di gallina Improvvisamente Il lupo Mi riallontana Con una potente spinta E raggiunge La tasca del suo cappotto Un oggetto Cade a terra Ecco Non deve ringraziarmi È statico Lo vedete È proprio in preda A un rush Adrenalinico Enorme Cioè proprio È agitato È forte Ti prende per il braccio Te lo stritola Mentre che Ti bacia le guance Per ringraziarti Di quanto è felice Poi quando ti deve regalare qualcosa Ti spinge via Capite Ti allontana Si infila le mani in tasca Per prendere qualcosa Così veloce Nervoso Pah Che gli cade anche per terra Capite quanto è È proprio Questa è proprio La 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 Mamma mia Come si chiama Cazzo Volevo dire troppo velocemente Questo è Quel rush Che succede agli animali Tantissimo Ai cani Per esempio Quando si scibano Quando mangiano Vanno in questa Eh oh La frenesia alimentare Non mi veniva il termine Perdonatemi C'è questa condizione psicologica In cui si trovano Ma non solo i cani Succede a tantissimi animali Anche a tante persone L'ho visto succedere Anche a tanti esseri umani Che sono animali Anche gli esseri umani Non ce lo dimentichiamo mai C'è questa condizione psicologica Che accade Quando Sono in procinto Di nutrirsi O Si stanno nutrendo Chi di voi Ha un cane Ma anche il gatto Alla fine lo fa Anche se in maniera minore Ma chi di voi Ha un cane L'avrà notato benissimo Perché nel cane è palese Quando prendi la sciotola O addirittura basta Anche che ne so La 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 busta Il saccone dei croccantini O se siete abituati A cucinargli voi Da mangiare Quando gli mettete il cibo Proprio nella sciotola Basta che lui capisca Che si sta per mangiare Ale Impazzisce Inizia ad agitarsi tutto Sentite proprio il respiro Che gli va Velocissimo Inizia a scodinzolare In quella maniera Comincia a girare su se stesso Inizia proprio Gli piglia proprio Una frenesia Non si controlla Non riesce a controllarsi Capite? Questa cosa succede A molti animali E come stiamo vedendo Il lupo È in questo stato qua Ma vedete come è resa bene Questa roba Senza un filmato Senza niente È proprio Così raccontato Con quattro righe di testo Alla perfezione Se ti soffermi A riflettere Su quello che leggi È agghiacciantissima Sta roba Ma vi immaginate Voi vedete Vedere Una persona Con una testa da lupo Che si comporta Come un cazzo di cane Eh? Quando mangia Quando gli date la sciotola Che inizia tutto agitato Tutto Che ti prende Ti stringe Ti lecca Di cosa Ma che visione traumatizzante è ragazzi? È qualcosa veramente uscito Dal più profondo Degli incubi Di un allevatore cinofilo Cazzo È un qualcosa di assurdo Questa roba È veramente assurda Assurda Bellissima Di nuovo Un applauso Un applauso Ai Agli sviluppatori di Darkwood Ma c'è da sottolineare Una cosa importante In mezzo a questo dialogo Che io vi ho fatto notare poco fa Il nostro amico Wolfman Ha usato il termine Realizzato Non sazio Non sfamato Non semplicemente felice Ma realizzato Perché finalmente Ha riavuto la sua ragazza La sua dolce E piccola Signora Difficile credere Che lo stesso sangue Scorra nelle vene Di quella stronza Che puzza di gallina Il lupo Wolfman Non si è mangiato La Pretty Lady Perché aveva fame Non l'ha massacrata Probabilmente da viva Semplicemente Perché ne aveva bisogno Ma perché lo voleva Perché l'ha fatto In una sorta Di impulso Sessuale Questa è una cosa Molto particolare Wolfman Io ve l'ho già accennata Questa cosa in passato E l'ho accennata Anche nei commenti In risposta A una ragazza Che mi parlava Di Wolfman Come se fosse Madonna mia Non lo so Il principe azzurro Wolfman È un cazzo Di psicopatico Lo avete notato Fin dall'inizio Chi sarà Secondo voi Che ha cosparso Il bosco Di trappole Per orsi Chi sarà Wolfman Quando nelle vostre partite Vi siete stroncati Le tibie Vi ricordate Vi ricordate di questa roba Noi ne abbiamo parlato Episodio fa Che io vi ho detto Ma quanto deve essere profondo L'odio di una persona Verso altre Per portarla Ad essere felice Che queste persone E contenti Di aver Dei ragazzini Posso provare Non arriva a fare Un gesto Del genere Perché Perché Quando un ragazzo A scuola Viene bullizzato Inizia a provare Rabbia Che poi si può Trasformare In odio Profondo Verso le persone Che lo bullizzano In molti casi Questo odio Questa rabbia Spilla Nel senso Si espande E infetta Anche Le persone Intorno Ai bersagli Di questo odio Cioè tu inizi Ad odiare Non solo più Il tuo bullo Ma anche Chi difende Quel bullo Inizialmente E più questa rabbia Cresce Più quest'odio Cresce Più capite Più Questo Buio Interiore Spilla Da tutte le parti Inizia a contagiare Anche sempre più persone E all'inizio È solo il bullo Poi è anche Chi difende il bullo Poi sono anche Gli amici del bullo Che magari Non c'entrano niente Poi sono anche Quelli che in assoluto Non c'entrano niente Ma semplicemente Che sono indifferenti Al tuo dolore Al tuo odio E alla tua rabbia Inizia a odiare tutti Indistintamente Ok Questi sono i casi Estremi Proprio Di quando La frustrazione Il dolore La rabbia La paura Raggiunge Livelli stellari Ma proprio stellari E lì si provano Delle emozioni Negativissime Verso uno spettro Incredibilmente Ampio di persone E questo è completamente E del tutto Naturale Ma da lì A prendere un fucile D'assalto E ammazzare Gente A caso Ce n'è di strada Ce n'è di strada Perché fin quando Ti girano ancora Tutte le rotelle Per il verso giusto Riesci a distinguere Anche se provi Rabbia Anche se provi Frustrazione Perché nessuno ti aiuta Perché nessuno ti capisce Perché nessuno Ti sta dando una mano Riesci comunque A capire Che non sono loro La fonte Del tuo dolore Della tua rabbia Del tuo odio Della tua frustrazione Almeno in minima parte Capite? Quella minima parte Che ti impedisce Di prendere un fucile D'assalto E andare lì A ammazzare tutti Magari sotto sotto Gli odi Gli odi di brutto Ma non arriveresti Al punto Di fargli del male Tanto tanto Di ucciderli Capite? Quando si arriva A quei livelli lì È perché Lì avviene un crack Lì si spezza qualcosa E si perde completamente La visione della realtà Di come stanno davvero le cose Di chi ha intorno E chi no È proprio un qualcosa Che degenera Nei meandri più oscuri Della mente umana Un qualcosa di profondo E di indubbiamente Terribile Spaventoso Ma di estremamente interessante Da studiare in profondità Perché richiede C'è bisogno Di studiare in profondità Queste menti E suonerò Scinico Veramente lo so Suonerò Scinico Ma da appassionato Di psicologia A me piange il cuore Che tutte le volte Questi individui Si suicidano Perché una volta morti Non hai più modo Di capire Sono morti Ormai non è che puoi andare lì Parlarci Fargli domande E iniziare a capire A che livelli Siamo lì dentro Per arrivare a fare Quello che hanno fatto Cioè non tutti i casi C'è qualcuno Che è stato acchiappato vivo Però ovviamente Non è che io posso andare lì A fargli domande Mi piacerebbe tantissimo Non saprete quanto vorrei Andare lì E poter stare chiuso Cinque Sei Sette Otto ore Dentro una stanza Con uno di quei ragazzi A parlare Ma parlare Nella maniera più neutra Possibile Non Aggredire A puntare il dito A colpevolizzare No 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 Proprio Oggettivamente Per capire che cazzo Ti frullano testa a te È quello che vorrei tantissimo Questa roba qua E che bisognerebbe fare tantissimo Però insomma Perché vi ho fatto tutto questo discorso Per farvi capire Che quando si arriva A questi livelli estremi Di insensibilità O odio E furia Cieca In cui non si fa distinzione Per niente E per nessuno Lì non è più odio Lì non è più rabbia Non è più frustrazione Non sono più traumi personali Non è più niente Lì si è superato Un limite Molto sottile Indubbiamente Ma pur sempre Un limite Una sottile linea rossa Che ti porta In qualcos'altro In una vera e propria forma Di psicopatia Se vogliamo Il lupo Wolfman È a tutti gli effetti Uno psicopatico modello Non prova emozioni Non distingue Neanche Il bene Dal male Lui gioca Con la vita Degli esseri umani Esattamente come gioca Con una preda Qualsiasi È una versione Distorta Dell'odio umano Unito a quello Della Della ferocia Del ferocio istinto Predatorio Mi sta intrecciando la lingua Del feroce istinto predatorio Canino O lupesco Se vogliamo Che lì è ancora più forte Lui deve cacciare Sono prede Capite? Sono prede Lui è il cacciatore Lui li caccia tutti Non importa cos'è Si muove Respira Io lo caccio Poi gli taglio la testa E me l'attacco al muro In casa Come trofeo Capite? È un lupo Uomo È un uomo Lupo Nel senso Proprio degli istinti Nel senso profondo Dell'animo È una delle cose Più pericolose Che possano esistere Sulla faccia della terra Perché noi siamo vivi E ricordatevi che ci chiama Preda Anche a noi O carcassa O carne morta In inglese Ci chiama a volte Meat A volte flesh A volte insomma Usa questi termini Proprio che vuol dire Proprio carcassa Carne morta O più spesso Anche preda E quindi Cioè Noi siamo vivi Semplicemente Perché gli abbiamo fatto comodo Noi siamo gli unici Che avevano accesso Al villaggio Dove in quel villaggio C'era una persona Che lui voleva Ecco perché Noi siamo vivi E non siamo appesi A quel muro Capite? Perché potremmo essere Benissimo appesi A quel muro O seduti In una delle sue sedie Poltroncine Bellini Imbalsamati Non è che lui Ci tiene a noi Non è che Ma non è questo Di tenerci o non tenerci A lui non gli serve Un motivo per uccidere qualcuno Un serial killer Non avete idea Di quanti psicopatici Esistono che non sono serial killer Non avete idea Di quanti psicopatici Conoscete quotidianamente Che non sono serial killer E non capite Che sono degli psicopatici Io da quando ho iniziato A studiare psicologia E ho iniziato E ho iniziato ad addentrarmi Nei meandri Della psicopatia Mi sono reso conto Di quanti cazzo Di psicopatici Conosco Ma quanti E non è che ne conosco tanti Perché ho chissà quali Strane conoscenze No no Proprio persone comunissime Quante rientrano Nella definizione Di psicopatico Tantissime Non vi potete rendere conto Ma malgrado ciò Non tutti sono serial killer Perché? Perché lì Ci sono tanti altri fattori Che giocano Un ruolo fondamentale Nel far sì che La persona psicopatica Arrivi poi A uccidere In maniera più o meno Seriale Però comunque arrivi ad uccidere Non tutti gli psicopatici Uccidono Sebbene tutti gli psicopatici Per un motivo o per un altro Sono spaventosi E pericolosi Ma comunque vada Non è detto che Facciano del male agli altri Ecco Comunque vada Vi dicevo C'è questo qualcosa Che li separa Lui È senza ombra di dubbio Uno psicopatico serial killer Ma senza ombra di dubbio Perché ha proprio Questo desiderio Di uccidere Questo bisogno Carnale Di cacciare Ed uccidere gli altri Lui ha un po' Questa sua Giustificazione Del cacciatore Preda Sono prede Io ti caccio Se ti becco Vinto io Sei la mia preda E così che va la natura E da un certo punto di vista Come dargli torto Perché la natura Va davvero così Però insomma Ecco Noi che siamo dotati Del lume della ragione Possiamo un attimino Capire Che Qui c'è qualcosa Che non va Quindi lui se ne va in giro Per il bosco Piazzando tagliole Nella speranza Che qualcuno Ci infili un piede E si tronchi una tibia In modo che le urla Di dolore Attirino Il nostro caro amico Lì Per andare a prendersi La sua preda Cosa poi ci fa Con questa preda L'abbiamo visto Questo è un po' Quello che fa Un serial killer Uccide Per soddisfare Un bisogno Ok Per soddisfare Una pulsione Che diventa Via via Sempre più forte Fino ad essere Incontenibile Ok Impossibile È un impulso Che non può essere Contenuto Anche se Molti serial killer In passato Hanno ammesso Di aver fatto Di tutto Per cercare Di frenarsi Per cercare Di non uccidere Ad un certo punto Questa pulsione Diventa così forte Che non ci puoi fare niente Cioè più forte di te Capisci? E arrivi E uccidi Qui possiamo notare Due modus operandi E due comportamenti Completamente diversi Da un lato Lui caccia Prende la preda La uccide E dopodiché La tratta Come Un trofeo O la appende al muro O la imbalsama In casa Per fare Qualcosa di bello Dall'altra abbiamo La pretty lady La bella signora Non l'ha cacciata Personalmente Non l'ha presa Come preda E soprattutto Non l'ha Imbalsamata Al contrario Di tutte le altre Sue prede L'ha mangiata Qui c'è un'altra Cosa interessante C'è un'altra cosa Interessante Che entra in campo Quando si va A approfondire Un po' La mentalità La psicologia Dei cannibali Cioè Delle persone Non dei cannibali Intesi come Tribù indigene Che mangiano Altri esseri umani Per sopravvivere Ma di persone Civilizzate Della nostra società Che Per qualche motivo A quanto pare Agli occhi Della gente Un bel giorno Così dal niente Sbroccano E si mangiano Ammazzano E mangiano Un'altra persona Non è così Non succede davvero così Ma anche questo È fonte Di impulsi Molto potenti Che I cannibali Appunto provano E che alla fine Arrivano A sfociare Nella realtà E nelle azioni Se prendiamo Per esempio Uno dei più famosi Quello giapponese Che quando era Di famiglia ricchissima Che in una vacanza Studio Non mi ricordo Purtroppo come si chiamava Ma se lo googolate È una storia Terrificante Vi avverto Perché è reale Però insomma Questo ragazzino Giapponese Di famiglia Super ricca L'hanno mandato A studiare In America E mentre che era lì Ha pensato bene Di mangiarsi La sua compagna Di studi L'ha ammazzata E se l'è mangiata È stato sgamato È stato arrestato È stato espatriato In Giappone Perché la famiglia Aveva un sacco di soldi Dove non gli è stato fatto Assolutamente un cazzo di niente E non solo In Giappone Adesso è una celebrità Perché è il Il cannibale Di Mi ricordo di dove Non me lo ricordo Purtroppo ragazzi Comunque Ho guardato Molte interviste Perché come vi dicevo A me interessa molto Capire A livello oggettivo E del tutto neutro Quello che passa Per la testa Una persona Che si spinge A tanto No Voglio proprio capirli Voglio per un attimo Entrare dentro La loro testa E capire Quello che fanno Perché io sono fermamente Convinto Ma fermamente convinto Che nel mondo Non esista Il male Nel senso Non è che lui fa così Perché è maligno È cattivo No? Lui è il male Il male non esiste È un cazzo di concetto Umano Inventato dagli esseri umani Il male non esiste Quando una persona Fa qualcosa Di estremamente sbagliato Terribile Spaventoso Crudele Qualcosa di così Io voglio capire Che cazzo Gli è successo In quella testolina Che l'ha portato A fare un'azione del genere Un'azione che una persona normale Si sentirebbe male Solo a pensare di farla Figurati a farla Non riuscirebbe proprio a farla Quindi capite C'è un qualcosa di pazzesco Che succede in quelle testi E quindi mi sono guardato Un sacco di interviste Non potendo io In prima persona Andare lì A fargli domande Cercando di capire Il più possibile Una cosa Che salta fuori Non vi dico Nel 100% Dei casi Ma In una Grandissima maggioranza Di questi casi qua È Che l'atto di uccidere Sia nei serial killer normali Ma ancor di più Nei cannibali Ha a che fare Con Un potente desiderio Di possessione E controllo Di possedere Di avere Che spesso È strettamente correlato Alla sfera sessuale Al desiderio sessuale Alla pulsione sessuale A volte sono deformazioni Della pulsione sessuale Come in caso di Omosessualità represse In cui no Uno è omosessuale Ma non riesce ad accettarlo Si autorifiuta Autonega la propria Omosessualità E le proprie pulsioni Verso Le persone dello stesso sessuale Cosa che lo porta Poi a scapocciare Di brutto E a sviluppare Dei problemi Che poi possono diventare Anche di natura Estremamente violenta O come in altri casi Questo bisogno Di possessione Questo bisogno Di Capite Proprio Di possedere Quella persona È dovuta A dei traumi infantili In alcuni casi Per problemi gravissimi Nella relazione Genitore Figli In cui però Gira e rigira Ora io ve la faccio breve Perché se no Mi dilungo troppo Ora perché l'argomento Mi interessa A me quando questi argomenti Mi appassionano Mi interessano Mi viene da approfondire Però devo ricordarmi Che non devo divagare Approfondire troppo Insomma In molti di questi casi C'è di mezzo La possessione Ok Il possedere In maniera profonda Più profonda Solo Dell'atto sessuale La persona Più profonda Dell'averla accanto Di possederla Proprio al 100% Di averla tua E quale atto Più profondo Di possessione C'è Del mangiarsi Quella persona Prenderla Pezzo Pezzo So che quello che sto dicendo È terribile Perdonatemi Io a volte Entrando nella mente Di queste persone Un pochino Divento come loro Ma la lontana Non farei mai cose del genere Però Devi pensare come loro Se le vuoi capire Capite Cosa c'è di più Profondo A livello di possessione Se non proprio prendere La carne Le componenti Del corpo Di quella persona E metterle All'interno del tuo Digerirle Assimilarle Come forma di energia E fare in modo Che siano per sempre Lì con te Loro saranno Per sempre con te Saranno per sempre Tue E di nessun altro Perché te le sei mangiate Cazzo Capite che voglio dire È l'atto Proprio Il cannibalismo È l'atto Di possessione Suprema Più del Quello Ancora la mente umana Non è riuscita A partorire Atrocità Presumo Che io sappia E questo è uno dei motivi Per cui si fa E qui possiamo Vedere benissimo Che qua c'è un atto Di cannibalismo Perché ok Sì Questo è mezzo lupo Mezzo uomo Quindi potremmo dire Che magari ha ceduto La metà lupo E quindi se l'è mangiata In preda A una frenesia alimentare Ma no Perché a noi ci ha leccato La faccia Poteva Se era semplicemente Frenesia alimentare Avrebbe mangiato La faccia anche nostra Capite Avrebbe mangiato anche noi A noi non ci mangia Gli facciamo quasi schifo Ci chiama carne putrida Capite È un altro discorso A noi non ci vuole Non ci vuole possedere Lui voleva lei Lui voleva lei Con una possessione profonda Fisica 3-4 giorni Sparisce Questo se la mangia Tutta se la mangia Perché lei era la fonte Del suo desiderio Desiderio così profondo Che aveva bisogno Di essere soddisfatto Doveva realizzarlo Capite E noi Gli abbiamo permesso Di farlo Terribile Veramente terribile Non che Alla Pretty Lady Aspettasse un futuro migliore Sia chiaro Perché Porina Conciacomera Immagino che fine Avrebbe fatto Anche di suo Però non che comunque Abbia fatto una bella fine Ecco Secondo me Un proiettile in testa Era sicuramente Meglio Porella Però capite qua Tutto questo discorso Per capire davvero Questo personaggio Che abbiamo davanti A che livello Di dettaglio Di caratterizzazione Siamo arrivati Con questo personaggio Del cavolo Un personaggio Che sostanzialmente Non ha manco un nome Ma il suo nome E la descrizione Del suo aspetto Wolfman L'uomo lupo Capite Quanto in realtà Nel suo carattere c'è E quanto ancora Noi non abbiamo Descritto Perché non sappiamo Io non ve ne ho ancora Parlato di questa roba Ma quel buco Di proiettile In quella giacca La dice lunga La dice lunga Anche quello Quello è palesemente In foro di proiettile Palesemente C'è tanto da dire Di questa roba qui E ne parleremo Tra poco Perché ancora Non abbiamo finito Ora non in questo episodio Innanzitutto Andiamo avanti Con questo dialogo Tutta questa roba Era per farvi capire Quanto questo personaggio Sia dettagliatissimo E in realtà Ora noi Ci siamo potuti Soffermare di più Sul personaggio Di Wolfman Perché? Perché abbiamo tirato avanti La quest di Wolfman Quindi ci si addentra Di più Nella sua lore Nella sua caratterizzazione In quanto personaggio Non abbiamo potuto Fare lo stesso Con il musicista Capite? Ma tutti i personaggi Principali di Darkwood Come vi ho detto Fin dall'inizio Sono strepitosi E io qui Mi devo sbilanciare A dire questa cosa Perché un po' di tempo fa Qualche episodio indietro Ci fu uno che disse Nei commenti Di un video Disse Ah io ho giocato a Darkwood Ma non mi è piaciuto proprio Perché proprio Non mi sono piaciuti I personaggi Non è che Cioè Allora Non capisco Cioè non possono Non piacerti questi personaggi Perché se non ti piacciono Vuol dire che non li hai capiti Perché se li capisci Sono Dei personaggioni Sono enormi Ok magari Nel senso Non lo stimi Non lo apprezzi Non è il tuo personaggio preferito Nel senso Non puoi dire Wolfman Ah che idolo Che è Wolfman Cazzo no? È uno psicopatico Serial killer Mania comicida Cannibale Voglio dire Non è proprio Non è proprio Un soggetto Che uno stimola Che Porca miseria Mi sta intrecciando anche il cervello Adesso Oltre la lingua Non che stimola Che uno imita O prende comunque Come Come modello di riferimento Assolutamente no Però è un personaggio Molto bello È un personaggio Molto ben fatto È un personaggio Estremamente caratterizzato È un bel personaggio Poi Che sia Di tuo gusto Un altro discorso Dici a me magari Non piacciono i lupi E vabbè Cazzo i tuoi Ma non puoi dire Che è un bel personaggio A me magari Non piacciono i serial killer Va bene Gusti sono gusti Però non puoi dire Che non sia un bel personaggio Capite Lo stesso Lo potremmo dire Per Piotrek Per il musicista Per tanti altri personaggi Di questo gioco Per il mercante Capite Sono tutti personaggi Che in realtà Sono densissimi Sono enormi Porca miseria E sono dei personaggi Della madonna Che raramente Si vedono Delle caratterizzazioni Così dettagliate In un videogioco È raro È raro De normal in un videogioco Se scrive due righe Del personaggio Malapena c'ha un background Malapena c'ha un carattere E quello è Beccati sto personaggio Però gli si fa il ciuffo figo Gli si fa gli occhioni belli tondi Alle personaggio amato da tutti Quando in realtà Non è quello Che si chiama Fare un bel personaggio Questo è un bel personaggio Ti può fare schifo Ti può fare effetto Ti può fare rabbia Ti può fare paura Lo puoi odiare Lo puoi schifare brutalmente Bene Bene Giusto così Significa che il personaggio Ha fatto il suo dovere Non tutti i personaggi Devono essere gradevoli Il fatto che un personaggio Di susciti Rabbia Schifo Repulsione Vuol dire che è un bel personaggio Non so se mi spiego E quindi Quando uno mi viene a dire Che Non mi sono piaciuti I personaggi di Darkwood O non l'hai capiti O non hai ben capito Non riesci a separare L'oggettivo dal soggettivo Cosa che Succede a tante persone Comunque Personaggio della Madonna Andiamo avanti col dialogo Ora Visto che gran parte Dell'accordo è alle spalle Ti aiuterò a recuperare La tua stupida chiave Ti riporterò a casa Del dottore Sono sicuro Che troverai qualche indizio Su come raggiungere Il suo attuale Nascondiglio Voi due Farete due chiacchiere Avrai indietro Ciò che hai perso E dopo nulla Ti tratterrà Dall'uscire Da questa cazzo Di parte Della foresta Mi capisci Preda Farai le valigie Ti immergerai In quel tuo buco Puzzolente E scomparirai Il lupo ci vuole fuori Dalle palle Perché secondo me Un pochettino È In parte preoccupato Perché visto All'inizio ci sottovalutava No Sei un coglione Come tutti gli altri E Non voglio perdere Il mio tempo con te Prima dimostrami Se vali qualcosa Ci sottovalutava Pensava che fossimo Delle mezze cartucce No Ci ha messo alla prova Non solo abbiamo superato Tutte le sue prove Ma abbiamo anche realizzato Il suo sogno Quello che lui Non riusciva ad ottenere Da solo Quindi un pochettino Comincia a temerci Ha capito che non siamo Delle Delle mezze cartucce Come pensava all'inizio E un pochettino Gli fiacciamo paura Perché Perché Quando c'è un predatore In un territorio di caccia Non può essercene un altro Se due predatori Si trovano Nello stesso territorio di caccia È un problema per entrambi E uno dei due Se ne deve andare Vivo O morto Ma se ne deve andare Capite? Comincia a vederci Come una minaccia Lui non è più L'apex predator Lui è un predatore E noi Abbiamo tutte le carte in regola Per essere L'altro Predatore Quindi Comincia a temere Comincia a temerci In più Ci può anche essere il fatto Che comunque Noi lo abbiamo aiutato E lui Cerca di mantenere La sua parola Nel senso Vattene Prima che ti ammazzo Perché lui non si fa Veramente scrupoli A farci fuori Né perché l'abbiamo aiutato Ci vuole bene Siamo suoi amici Uno psicopatico Non prova Amicizia Non prova Bene Verso altre persone Non prova Quelle sensazioni Ne è completamente Totalmente Immune Nella Stragrande maggioranza Dei casi Di conseguenza Al lupo Di noi Non gliene frega Un cazzo Anche se gli abbiamo Riportato la sua fidanzata E abbiamo permesso Di mangiarsela A lui non gliene frega Niente di noi E non ci penserebbe Due secondi A farci a pezzettini Ma non lo fa Perché cerca Di mantenere la sua parola Sarà onore Sarà orgoglio Sarà fare l'altezzoso Non lo sappiamo Però Anche questo È molto plausibile Quindi vattene Prima che cambio idea Capito Via di qui Secondo me La mia opinione A livello di lore È semplicemente che Attenzione C'è un nuovo predatore Nel Nel territorio di caccia Questo è come la vede lui Perché ragiona così E secondo me È per questo che vuole Che ce ne andiamo Il prima possibile Insomma Mi capisci preda? Farai le valigie Ti immergerai in quel tuo buco Puzzolente E scomparirai E Stiamo andando Compagno? Ora Questo è quello che conclude La questline Di Wolfman Quello che vi dicevo All'inizio di questo episodio Conclude la questline E Ho Questo ricordo Che noi non rivedremo Mai più Wolfman Cioè Fino alla fine del gioco Noi non potremo mai più Interagire Con lui Concludendo La questline Facendo un cenno Con la testa Noi però abbiamo bisogno Di ucciderlo Abbiamo bisogno Di ucciderlo Perché io voglio farvi vedere Cosa droppa Wolfman Perché chiuderà Tutto questo enorme discorzone Di un'ora e mezza Che abbiamo fatto oggi Ma Se lo uccido adesso Blocco la sua questline E non possiamo Andare avanti Come dovremmo Quindi Sperando di ribeccarlo Ma mi sa proprio di no Faremo un cenno Con la testa E lasceremo Che lui ci porti A casa del dottore Eccoci arrivati Torcia la mano Siamo arrivati Vicino alla casa del dottore Qui non dovrebbe Esatto Non dovremmo poter vedere La mappa Perché non possiamo sapere Dov'è la casa del dottore È un luogo Esterno All'area di gioco Che solamente Grazie a Wolfman O Ad altri Magheggi In tal caso Facessimo altre questline Possiamo raggiungere Ora Questo episodio È venuto lunghissimo Spero che abbiate apprezzato Le chiacchiere Che abbiamo fatto Perché sono chiacchiere Estremamente importanti E inerenti A Darkwood Noi ci fermiamo qui Per questo episodio Nella prossima puntata Esploreremo la casa del dottore Sappiamo che lui Non si trova qui Ma cercheremo indizi Per capire Dove si nasconde Il bastardello E dopodiché Torneremo Alla ricerca del lupo Perché in questo territorio di caccia Il vero predatore Siamo noi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima